Ehi ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef e benvenuti in questo nuovo vlog E siamo senza internet ragazzi, purtroppo da stamattina siamo totalmente senza internet Quindi abbiamo deciso di fare perlomeno un vlog giusto per non lasciarvi senza video Visto che comunque risulta molto più leggero e lo possiamo caricare con la connessione del cellulare Esattamente, abbiamo già parlato con la Telecom, ci hanno detto che entro domani dovrebbero risolvere tutto Io lo spero vivamente Altrimenti gli spacco la faccia Esattamente, sapevo già che volevi dire quello Anche tu hai paura di me, fai bene, fai bene Comunque, comunque, bando alle ciance possiamo passare subito ai saluti di oggi Che ovviamente anche in questo vlog saranno tantissimi Quindi gli eroi di oggi sono Salvatore, Laura Yei, Milena, Slenderale e Laura Style Chicken YouTube, Flavio, Antonio, Umberto e Sam Kawaii And Blob, Queen Blackberry, Antonio, Mommy Potter e la vostra cara Nicole Ciao ragazzi Grazie mille per le condivisioni La prima cosa di cui vi vogliamo parlare oggi e probabilmente anche la più importante è l'idea che ci è venuta per ormai lo speciale dei 2000 iscritti che sta per arrivare Abbiamo visto diversi commenti di rime contro testa e ci è venuto in mente di scrivere una canzone rap con le vostre rime contro testa Io non ho parole, io non riesco a dire nulla perché è un'idea folle Io vi dico, allora, prima di rispondere, di accettare questa proposta, vi dico che non sappiamo cantare Esatto, averti di questa cosa No, siamo stonati come campane, quindi se magari pensate, si può uscire una cosa carina perché magari sono bravi a cantare, no, non è così, non è così Comunque Io vorrei leggere la prima riga della cosa che nel caso ho scritto per far vedere quanto siamo bravi, ok? Vai, vai, leggi Io, io, qui a Stefano e Ferenichi siamo troppo fichi e vi vogliamo raccontare una storia su Stefano e Ferenichi Ti è piaciuto? Io mi sto vergognando al posto tuo Io posso in te uscire da quella porta e non mi farei mai più vedere, ti dico la verità Non mi insultare, devo ancora migliorare e poi con la base sotto è più facile, ok? Ma non è vero Sì, sì, è più facile No, comunque, allora, l'idea di base era di cercare di scrivere un testo con le rime che ci proponete Magari aggiungendo anche qualche frasettina a noi, giusto per collegare il tutto E quindi di fare una canzone di minaccia rap contro testa Perché cosa c'è di meglio di utilizzare il rap per minacciare qualcuno? Io sono la regina del rap Ma che regina del rap? Ti minaccio sempre usando le rime, guarda, ti lascio perdere Sono felicissima per questa cosa, spero possa uscire carino Penso che ci impegneremo, cercheremo di Di farlo almeno decente Di guardare qualche lezione di canto su YouTube per cercare di migliorare In ogni caso, ovviamente, se vi piace l'idea fateci Quindi, se vi piace questa idea, riempiteci di commenti, riempiteci di rime E noi prepareremo questa canzone rap Se ne pentiranno Esattamente La seconda cosa di cui vi vogliamo parlare in questo vlog Sono le serie che stiamo trattando e che vogliamo trattare nel canale Esatto Prima di tutto ci teniamo a specificare che purtroppo non possiamo accontentare ognuno di voi Cioè ci piacerebbe fare delle serie che possano piacere al più persone possibili Perché comunque è anche bello vedere che vi piace vedere il nostro video Esatto E cose del genere Però vi chiediamo giusto che se magari vi capita quel gioco Che avete già visto o cosa ne so Che magari non vi piace tantissimo Provate comunque a dargli una possibilità Noi comunque cercheremo sempre di impegnarci Esatto Di portare i giochi nel modo più originale possibile Perché penso si noti che cerchiamo sempre di metterci qualche idea Speriamo Per fare in modo che comunque anche magari i sport Molti di voi l'avranno già visto Però cerchiamo sempre di trattare le cose a modo nostro Insomma per non annoiarvi anche se il gioco lo conoscete già Esattamente Quindi mi sono fatto una lista di tutte le serie che vi vogliamo proporre Sarete voi quindi di nuovo a decidere che cosa faremo Io le ho giusto elencate Allora prima di tutto c'è The Forest Abbiamo fatto il primo episodio Abbiamo visto che a molti di voi nei commenti e con i likes è piaciuto Però ci siamo accorti che rispetto ad altri video è stato cliccato meno Li vogliamo capire Non vi piace proprio il genere perché in effetti è diverso da solito Rimane un po' diverso Cioè tendiamo più a fare cose un po' gestionali Magari The Forest risulta sia survival ma forse anche un po' Anche un po' horror, un po' cupo Infatti mi chiedo magari non piace il genere horror Non piacciono le cose anche così macabre Esattamente Quindi fateci sapere se The Forest lo volete vedere e continuare O se magari preferite vedere qualcos'altro Per qualcos'altro abbiamo pensato Prima di tutto a Minecraft Io non so perché nel nostro canale Minecraft non piace Io penso che noi siamo l'unico canale italiano che non riesce a far piacere Minecraft Io so che è stato visto e rivisto due miliardi di volte Ma ad esempio a noi piace tantissimo Esatto Noi fuori dai video giochiamo spesso i minigames, i minigiochi Giochiamo anche nella parte survival Perché è un gioco a cui giochiamo praticamente da sempre, da un sacco di anni E ci piace davvero tanto ma non so perché non piace Quindi vi chiedo vi piace o no insomma Non capisco Esattamente E se vi piace che cosa preferite vedere? Tra una serie, vanilla, mod, minigiochi Insomma fateci sapere quello che preferireste Poi abbiamo pensato, grazie a Flavio che ci ha scritto nei commenti A Scrap Mechanic Che è un gioco carinissimo dove si possono costruire davvero qualunque tipo di cosa Siamo scarsi a costruire ma sarebbe divertente provarci Ed è molto bellino anche quello Secondo me potrebbe essere divertente Guarda, infatti ho fatto bene a proporlo a Flavio È un gioco che io sono sempre stata indecisa se portarlo almeno appunto Perché siamo davvero terribili nelle costruzioni Io lo dico, non so perché abbiamo proprio questo problema Non c'è bisogno di dirlo No, no, lo ripeto perché bisogna capire che come nel rap siamo davvero scarsi Esatto, più o meno è la stessa cosa E quindi mi preoccupavo un po' Ho detto magari se lo portiamo facciamo schifo e non piace neanche Però in effetti potrebbe essere un'idea carina farlo tutti assieme Sì, potrebbe essere divertente Magari ci scrivete tipo costruite un mulino E noi proviamo a fare un mulino Poi esce un cavallo Ma non è importante Un altro gioco che ci avete chiesto in parecchi è 60 Seconds Abbiamo visto che l'hanno aggiornato, l'hanno messo in italiano Hanno aggiunto diverse cose Quindi anche quello potrebbe essere carino E soprattutto non sarebbe una vera e propria serie Ma più episodi singoli Beh sì, cioè dipende da come ti va Ti può durare anche un solo episodio Così come due, così come tre È un po', cioè si sappia almeno come 60 Seconds Potrebbe essere carino Potrebbe essere carino e divertente anche quello E infine giochi singoli Quindi da episodi singoli come Slitterio Diepio, Clash Royale Insomma tutti questi giochini che sono più da singoli video Abbastanza divertenti Perché visto che qualcuno ci ha chiesto anche questi giochi Perché secondo me ci vogliono vedere un pochettino arrabbiati Di spaccare qualcosa, soprattutto a te Perché soprattutto io? Chi mai direbbe una cosa del genere? Chiunque Non è vero Quindi ricapitolando fateci sapere nei commenti Potete ovviamente proporre anche più di uno di questi giochi Che vi abbiamo elencato Tra The Forest, Minecraft, Scrape Mechanic, 60 Seconds E giochi singoli come Diep, Slitterio, Clash Royale, eccetera Vabbè vi facciamo anche la lista nei commenti Perché tanto, cioè non me li ricordo io Esatto Ok ci fermiamo così Speriamo che per domani ci torni la connessione E se è così domani ovviamente uscirà il nuovo episodio di Youtubers Life Con il matrimonio di Stere, Niki e Dayana Non vedo l'ora, non vedo l'ora Aspetto questo momento da tantissimo E ci vediamo domani Ciao 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 Grazie a tutti